La Regione Toscana, grazie alla risposta dell'assessore Bezzini ad un'interrogazione del consigliere Gabriele Veneri, dà via ufficialmente alla prescrizione infermieristica. È stato l'assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini rispondendo ad un'interrogazione dei consiglieri Fantozzi e Veneri a prendersi l'impegno del percorso verso la prescrizione infermieristica di presidi sanitari. Toscana apri pista anche perché in Italia è la prima regione che avvierà un percorso di questo tipo e soprattutto in Europa chiaramente hanno già avviato questi percorsi di prescrizione dal punto di vista infermieristico per esempio nel Regno Unito dal 1992, basti pensare alla Spagna, basti pensare alla Norvegia, alla Danimarca. In Italia non è ancora sdoganata questa prescrizione. La Toscana invece ha voluto fortemente dare questo segnale. La Toscana è chiaramente sempre stato un baluardo che ha portato innovazione all'interno del sistema sanitario nazionale facendo sì che ci sia una riforma importante, per esempio quella dell'emergenza urgenza dove si inserisce quello che è l'infermierizzata, quindi l'ambulanza con gli infermieri a bordo che vanno sugli interventi. Oggi dà una risposta concreta ai bisogni dei cittadini creando dei percorsi tra l'assessorato, gli infermieri e l'ordine dei medici per la prescrizione di presidi ausiliari minori, di ausili minori come ad esempio per l'incontinenza o per protesica minore o altri tipi di presidi. È necessario che questa notizia venga assimilata e questo percorso si avvii affinché si possa in qualche modo dare delle risposte concrete ai bisogni di assistenza e di salute dei cittadini, in questo caso toscani. Noi come ordine di infermieri ci metteremo a disposizione senza far mancare la formazione adeguata agli infermieri che saranno individuati come esperti per la prescrizione di questi presidi.